Il leader della Lega Matteo Salvini tornerà di nuovo nella Tuscia, sarà domenica prossima, 11 luglio, a Tarquinia, in occasione della campagna referendaria sulla giustizia che i leghisti stanno portando avanti con un successo inaspettato insieme ai radicali, sono state già oltre mille le firme raccolte. I gazebo per apporre la propria firma saranno disponibili anche nelle prossime settimane in tutto il territorio provinciale della Tuscia. Nel merito i sei quesiti che Lega e Radicali vogliono portare in cabina elettorale sono sul tema della riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino, Salvini andrà sia sul litorale che nella città di Tarquina. Il programma della visita è in via di definizione. Alla fine del mese di luglio, il leader leghista dovrebbe tornare anche a Viterbo per inaugurare la nuova sede della Lega nel quartiere San Faustino.